Ciao a tutti ragazzi, qui è Archivi Parla. Abbiamo finalmente i leak per quanto riguarda tutte le immagini pre-alpha o comunque qualcosina di pre-alpha per Black Ops 3 che abbiamo aspettato per queste ultime settimane o anche quest'ultimo mesetto, diciamo. Mi scuso fin da subito perché non potrò mostrare queste immagini nel video per evitare qualsiasi problema di copyright da parte di Activision, che a quanto pare comunque non vuole che questi contenuti vadano in giro per internet, quindi trovate in descrizione il link alle immagini che spero possa rimanere su per il più tempo possibile, però visto che tutti i video possibili e immaginabili che hanno fatto riguardo questi contenuti, che non sono neanche così tanti o comunque così importanti, sono stati tutti buttati giù con anche strike di copyright su YouTube e avendo avuto già i miei problemi in passato preferisco evitare, quindi ne parlerò soltanto a voce, nel video non ci sarà nessuna immagine, potete vederli in descrizione, quindi magari aprite il link, seguite le immagini, ovviamente ne parlerò e guardate mentre ascoltate di sottofondo questo video. Quindi andando in ordine nella prima immagine possiamo vedere quello che è semplicemente il laboratorio di Dr. Monti che c'è su Black Ops 3 per poter ottenere le Gabble Gun scambiandole per il Liquid Divinium, quella parte ovviamente dato che siamo in pre-alpha, comunque in alpha di produzione, si vede che le skin non sono fatte come si deve, le texture non sono finite, è qualcosa che è veramente in uno stato molto embrionale, però sembra che tutto il sistema sia praticamente identico potendo spendere 1, 2 o 3 Liquid Divinium e ottenendo le nostre Gabble Gun. Dopodiché abbiamo qualche immagine in alpha delle mappe, quindi possiamo vedere che ci mancano tantissimi dettagli come anche le luci, sono tutte tipo o molto scure o di colore rosso, però per il resto penso che le mappe almeno nella loro struttura, nella loro zona, siano praticamente tutte identiche, che non ci fosse nessun cambiamento incredibile, possiamo già vedere l'MR6, qualcosina dell'HUD come il round, in alto ci sono alcuni spazi mancanti, anche il punteggio è il simbolo dal Beast Mode da utilizzare su Shadow Sovival, quindi già quello era fatto come si deve. Possiamo poi vedere quello che penso fosse un altro sistema per il laboratorio di Dottor Monti per le Gabble Gun, però chiamato Mega Chew Machine, che era ovviamente uno stato un pochino molto molto iniziale, perché le skin si vede che sono soltanto delle piccole immagini, anche se alcuni nomi delle Gabble Gun sono ancora gli stessi come Arrampicamuri o specializzato, però possiamo vedere che la schermata non è fatta benissimo, al posto di Liquid Divinium ci sono queste sottospecie di monete, però normalmente se ne possono utilizzare 1, 2 o 3, e ottenere queste Gabble Gun che penso prima fossero chiamate in maniera diversa, in alcune schermate vengono chiamate Bubble Gum invece che Gabble Gum, vengono chiamate questa Lachiuma Chin, quindi forse alcuni nomi all'inizio non erano ancora scelti. L'altra cosa molto interessante è che già adesso, ma anche in seguito di altre immagini, possiamo vedere quasi tutti i DLC, comunque quasi tutte le mappe aggiuntive viste con il season pass di Black Ops 3 già presenti nella pre-alpha, quindi non soltanto Shadows e The Giant che erano disponibili al lancio, bensì anche The Rise of the Rock e Setsubunoshima, e vedremo anche Revelations. Qua arriviamo alle cose un po' più interessanti che abbiamo già visto in parte in alcune immagini, le poche che abbiamo visto in precedenza, e molte altre cose che abbiamo visto poi in seguito su Black Ops 4, che a quanto parevano già introdurre su Black Ops 3, almeno in parte, o comunque hanno voluto introdurre su Black Ops 3, non ci sono riusciti come volevano o non l'hanno fatto in tempo, le hanno tenute poi per Black Ops 4. Uno di questi, come già visto, è da poter customizzare i nostri outfit per i personaggi, quindi cambiare il colore, cambiare alcune magliette, magari avere alcune skin leggermente diverse da sbloccare con delle sfide o livellando i personaggi, questo già l'avevamo appunto visto nell'immagine precedente, che ci ha dato Prototype Preservation, e su Black Ops 4 possiamo vedere già alcune skin come le metiche facciali, poter cambiare qualcosina, non così tanto come ci si potrebbe aspettare, quindi avere skin veramente molto molto diverse. Le nostre che abbiamo su Black Ops 4 solitamente vengono da multigiocatore o blackout e si possono anche sbloccare e utilizzare per zombie, però altrimenti avremmo potuto vedere molti più outfit presenti per alcuni personaggi molto importanti, come anche solo i primis e gli ultimis, che hanno avuto solitamente sempre gli stessi vestiti, però poter cambiare anche soltanto il colore o alternare due o tre outfit diversi ogni volta che vogliamo nel nostro menu, sarebbe stato un premio più interessante. Un'altra cosa che poi abbiamo visto su Black Ops 4 è la difficoltà, su Black Ops 3 c'erano qua nella pre-alpha ben tre difficoltà, quindi Survivor, Hunter e Exterminator, che penso fossero praticamente facili, normali e difficili, come sono su Black Ops 4, quindi 50 in più di vita, un colpo in più per esistere e non morire colpi degli zombie, difficoltà normale che è la classica modalità originale per zombie, poi difficile che sia un colpo in meno, quindi si moriva in due colpi, sarebbero su Black Ops 3 invece che due colpi, Red Screen e poi il terzo per morire, e un colpo in meno anche quando abbiamo il Jug. Poi non so se avrebbero fatto gli zombie più resistenti che magari davano più XP, tutto il sistema che abbiamo visto anche su Black Ops 4, poi su Black Ops 4 c'è in più realistico, però già volevano introdurre la difficoltà ai tempi di Black Ops 3, che sarebbe stato comunque in parte interessante e avrebbe seguito un pochino come era stato su Black Ops 2, dove c'era facile e originale, qua aggiungeci difficile e in seguito anche realistico. Vediamo poi qua appunto la First Room di Revelations, che a quanto pare era praticamente già pronta, perché mi sembra di vedere che le texture sia dei personaggi, sia della mappa e anche in parte dell'HUD, siano praticamente già finite e fatte come si deve, come sono anche nella versione finale del gioco, per cui mi sa che alcune mappe presenti nei DLC, come è stata Revelations, come è stata Setsubunoshimo, Darius and Ra, che erano già in ottima lavorazione, se non dico per forza conclusa, anche se mi sembra molto presto durante la pre-alpha, dove alcune cose come le mappe di Shadows, l'HUD, il sistema di Gabogam, non fossero finite, però forse stavano già mettendo avanti il team che creava le mappe, comunque creava tutte le texture, le zone, in modo che poi quando avrebbero dovuto rifinirle e rilasciarle ai giocatori, fossero già un ottimo punto di sviluppo e serprenente pronte. Vediamo poi il menu delle Gabogam, che ovviamente i disegni sono molto molto bruttini, sono proprio originalissimi, però mi sa che alcune Gabogam che vediamo qua, per quanto i nomi fossero diversi e non tutte le immagini possano chiarirci quale Gabogam, o in questo caso Babogam, fossero. Alcune sicuramente sono diventate magari carbonizzato, se interrovo attenzione penso sia quello che noi attiriamo gli zombie per 20 secondi, una delle Gabogam classiche che si può utilizzare di continuo, e tante altre che abbiamo poi visto su Black Ops 3 o tutti gli esideri anche di Black Ops 4. Vediamo poi appunto una schermata di Setsubunoshima, dove qua mi sembra di vedere che le skin e il texture siano ancora iniziali, anche se il WMP è fatto come si deve, l'HOD ancora c'è, però mi sa che alcune parti dello sfondo che ci sono poi nella mappa finale, qua ancora non c'erano, possiamo vedere la colonna per le sfide, che in parte servono anche per l'easter egg, e ci sono già appunto qualche scritta, non per forza finita o fatta come si deve, però possiamo vedere ad esempio che ci possono essere la parte di Wondroep a raccogliere, quanti semi abbiamo già acquisito e tante altre cose, che poi mi ha visto appunto su Setsubunoshima. Vediamo poi una piccola schermata di The Rise and Drac, anche questa fatta soltanto proprio agli inizi, per cui abbiamo al posto dell'arco che abbiamo visto su The Rise and Drac sia quello normale, sia tutti quelli elementali e poi potenziati, che è ovviamente l'arco dello sparro che c'era come specialista di Black Ops 3. Abbiamo anche in alto a sinistra quello che penso sia un pezzo per una challenge, e anche qua mi sa che soltanto un piccolo pezzo di mappa era stato fatto, dato che abbiamo trovato soltanto questo screenshot o comunque quel poco che si poteva vedere dalla pre-alpha del gioco. Vediamo poi quelli che penso siano gli oggetti per i rituali di Shadows of Evil, quindi c'erano i piccoli disegni iniziali che poi ci sono nel menu, quando apriamo Select possiamo vedere quali oggetti abbiamo già raccolto, quali rituali abbiamo già finito, per poi attivare il Pack-a-Punch, ed erano già pronti, comunque c'era già l'idea di fare questi piccoli rituali per poi attivare il Pack-a-Punch, almeno su Shadows of Evil. Vediamo poi alcuni contenuti già visti, come gli outfit o la difficoltà di cui abbiamo parlato poco fa, però i menu un po' più rifiniti, questo qua degli outfit sembra essere proprio il menu di Black Ops 3, come è finito anche nel gioco, a parte qualche disegno o comunque qualcosina che non è ancora rifinito, come si deve, qualche skin mancante con i quadrati bianchi, però anche il sistema della difficoltà sembra essere rifinito come si deve, sembra proprio essere il menu di Black Ops 3 o comunque una versione, una bozza praticamente finale di come avremmo visto questa difficoltà nel gioco. Altra cosa molto interessante che avremo poi rivisto su Black Ops 4 sono le crea una classe, le classi personalizzate. Ovviamente su Black Ops 3 possiamo scegliere il Pack di 5 Gabblegum, quindi quello lo possiamo scegliere prima di ogni partita, selezionare il nostro Pack o personalizzarlo, mentre su Black Ops 4 abbiamo visto che si potrebbe cambiare l'arma iniziale, anche l'arma speciale, le granate, il sistema Pick 4 dei Perk, anche i 4 alisir e il talismano. Qua su Black Ops 3 quanto pare si potevano scegliere ben due armi iniziali, come build kit magari da poter costruire, da poter ottenere con qualche piccola sfida, non penso per forza a spawnare con alcune armi come un fucile d'assalto o un fucile a pompa, mi sembrerebbe un po' troppo forte. Come risultato magari su Black Ops 4, però ovviamente si potevano già personalizzare le Gabblegum e tutto il resto. Quindi questo sistema probabilmente non l'hanno introdotto perché sembrava magari o troppo forte o non funzionale come si deve al gameplay di Black Ops 3, e l'hanno poi tenuto per Black Ops 4 dove è stato ovviamente alterato. Continuiamo poi a vedere altre schermate per quanto riguarda la pre-alpha di Shadows of Evil, con skin ancora molto molto iniziale, tutto molto scuro, con mancanza di luci. Nuovamente vediamo la weapon build kit, quindi poter ottenere alcune armi anche parecchio forti secondo me come certi fucile d'assalto fin da subito, e alcune armi hanno nomi leggermente diversi, comunque sono cambiati come questo Arak che dovrebbe essere il KN, già possiamo vedere il Type, il Fall, l'M27 e altre armi. Continuiamo poi a vedere alcune schermate di Shadows of Evil in pre-alpha con alcuni contenuti che poi avremo visto nella parte finale del gioco, quindi secondo me moltissime idee sono state tenute e non per forza cancellate, come anche soltanto il customizzare i personaggi, creare una classe, tutti i contenuti, o comunque tutte cose che volevano inserire in questo gioco non ci sono riusciti o non hanno voluto farlo, hanno però ottenuto tutte queste idee per il capitolo successivo, o comunque tutte le idee iniziali per le mappe come Shadows e The Giant sono rimaste tutte identiche dalla pre-alpha fino alla parte finale. Abbiamo poi questa moneta gigante che abbiamo visto nella schermata precedente chiamata Lady the Ride Token, che dice che si possono ottenere esplorando le mappe di zombie e possono essere scambiate con Mega 2 Bubble Blast, quindi questo penso fosse un sistema molto iniziale per il Liquid Divinium da scambiare con delle Bubble Gum o Gabble Gum e qua dice esplorando le mappe zombie, noi possiamo ottenere il Liquid Divinium ad esempio aprendo porte perché è il sistema per spendere i punti, i Liquid Divinium si ottengono spendendo più punti possibile, quindi non so se poi hanno alterato questo sistema e non per forza magari si ottenevano questi token a forma di monete aprendo soltanto le porte, quindi andando in giro per le mappe che comunque è molto limitante perché una volta che hai aperto tutte le porte in una mappa non puoi continuare ad aprirle, mentre continuando a spendere punti comprando armi, comprando munizioni, facendo casse e potenziando si possono ottenere sempre più Liquid Divinium e di conseguenza sempre più Gabble Gum. Poi ci sono stati moltissimi cambiamenti durante lo sviluppo di Black Ops Zero durante anche il gioco finale dove a un certo punto c'era il limite di soltanto 2 Liquid Divinium a partita, poi è stato tolto, è stato rimesso, è stato ritolto, a questo punto non c'è più, quindi se la partita dura veramente tanto possiamo farne anche 5, 6 o addirittura di più, a un certo punto invece c'era il limite soltanto di 2 che era veramente poco, quindi in questo caso non so se ci sarebbe stato un limite simile o comunque come sarebbe cambiato questo sistema di token per ottenere delle Gabble Gum con questa anche sistema, questa machine che sembra molto quella di Dr. Monti su Black Ops 3 però magari sarebbe cambiato comunque qualcos'altro come il numero delle Gabble Gum o tante altre cose. Infine vediamo altre due schermate di pre-alpha di Setsubunoshima e anche di The Giant. Quelli di Setsubunoshima sembrano avere già alcuni sistemi come la maschera per evitare il fumo o altri pezzi di mappa già rifiniti anche se non perfezionati, fatti abbastanza bene. Anche The Giant ci troviamo dentro la zona dove c'è la trappola e la finestra e sembra che a parte qualche rifinitura di texture qualche sistemazione di luce o altro la mappa sia praticamente finita. Dopotutto stiamo parlando di Shadows e The Giant che ha le due mappe disponibili al lancio specialmente Shadows of Evil per tutti i giocatori e The Giant per chi aveva di Season Pass quindi è chiaro che devono essere secondo me almeno le due mappe fatte praticamente al 100% dove mancasse veramente pochissimo lavoro perché altrimenti quando sei già in pre-alpha o alpha che stai testando soltanto per mancanza di bug o che tutto funzioni come si deve almeno che le texture, le zone, gli zombie e tutto il resto funzioni veramente come si deve così manca soltanto qualche settimana qualche mesetto di lavoro e al lancio è tutto perfezionato e fatto come si deve mentre le mappe di DLC mancano ancora due o tre se non più mesi quindi c'è ancora abbastanza tempo per sistemare un pochino tutti i problemi o sistemare per bene tutto quanto per cui ragazzi queste erano tutte le immagini che per adesso ci hanno rilasciato sia i ragazzi di Produttural Preservation che penso il loro canale YouTube sia stato a questo punto chiuso per problemi di copyright essendo stato il loro terzo strike e mi dispiace veramente tanto perché ci hanno fornito non so quante informazioni quanti screenshot, quanti contenuti e anche i ragazzi di Digital Development che ci hanno rilasciato alcune immagini aggiuntive a quelle che già avevano trovato per cui ci sono veramente tanti contenuti presenti in questa pre-alpha dei Black Ops 3 possiamo ricollegarci moltissime cose viste su Black Ops 4 alcuni cambiamenti visti durante gli anni di vita stessi di Black Ops 3 tanti contenuti che purtroppo sono stati tagliati ma poi in futuro riutilizzati quindi io spero che possano fare le stesse cose per i contenuti mancanti di Black Ops 4 come state le fazioni che sono state tramutate almeno su Black Ops 4 nei contratti ma vorrei rivedere almeno in parte tutto il sistema annunciato con le fazioni le guerre di fazioni anche tutte le ricompense anche le customizations ufficiali della Treyarch anche il libro delle ricette di Newton che era presente in Black Ops 3 ma non in Black Ops 4 e rivederlo in futuro nel prossimo capitolo sperando abbiano avuto abbastanza tempo per realizzare tutto come si deve e non avere altri problemi di sviluppo come è stato per sia Black Ops 3 sia anche Black Ops 4 specialmente Black Ops 4 quindi vedendo contenuti mancanti contenuti tagliati tantissime cose non rifinite come si deve o ad esempio anche soltanto così tanti remake e remastered anche se la storia etere a questo punto si è conclusa ci sarebbe ancora la storia caos lasciata a metà e si vocifera di un reboot della storia etere ma staremo a vedere per quanto riguarda Black Ops 3 comunque a quanto pare tutti questi contenuti mancanti o tagliati presenti nella pre-alpha sono stati poi riutilizzati in futuro tutto il resto sono soltanto screenshot di mappe non rifinite come si deve dove manca magari qualche dettaglio qualche texture qualche luce ma poi alla fine sarebbero arrivate praticamente tutte identiche fate quindi sapere ragazzi voi cosa ne pensate di tutti questi contenuti che abbiamo visto quindi i sistemi iniziali della gabble ma anche del creare una classe la difficoltà la personalizzazione degli outfit livellare appunto i personaggi per avere altri outfit o cambiare anche soltanto il colore tutte queste schermate pre-alpha che vi ricordo potete trovare in descrizione e non vi ho potuto mostrare in video per evitare chissà quali problemi di copyright con Activision e Trash che non sono sicuramente molto clemente per quanto riguarda questi argomenti e tutto quello che magari vi aspettavate da questa pre-alpha di Black Ops 3 cosa vi aspettate anche da altre pre-alpha che ancora non abbiamo visto come si deve su Black Ops 2 abbiamo visto qualcosina come i Perk Pro alcune altre schermate per quanto riguardava specialmente Dolore su Mob of the Dead con la testa di Rick Tofen anche la pre-alpha di World at War c'era qualche schermata che vorremmo avremmo visto invece su King of the Heart di Black Ops 1 e magari chissà tra qualche tempo vedremo anche la pre-alpha di Black Ops 4 e tanti altri contenuti mancanti come magari una bozza per le fazioni per le custom limitations ufficiali e tanto altro che poi o rivedremo in futuro o non vedremo mai spero come sempre ragazzi che oggi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo un abbraccio ala